Sono le 22 di mercoledì sera quando il comando inizia l'assalto al blindato del gruppo marchigiano Fitist che al suo interno trasportava l'incasso di alcuni supermercati. Una somma stimata di 1,8 milioni di euro. L'inferno si consuma in pochi istanti, sull'A14 tra Mosciano e Tortoreto si sprigionano le fiamme di due Tirmis di Traverso e dati alle fiamme per bloccare il traffico. Il portavalori viene bloccato dalle bande chiodate e gettate sull'asfalto. Un muletto poi lo ribalta, si sentono esplodere colpi di arma da fuoco, forse Kalashnikov ad entrare in azione un numero di malviventi non precisato tra 7 e 10, pare dalla Centopugliese. Il colpo fallisce perché nel tentativo di aprire le lamine del furgone scatta l'allarme e allora si danna la fuga con un SUV che più tardi sarà sostituito con un'auto di minore cilindrata. Il tratto scelto per l'assalto costeggia la zona industriale di Mosciano consentendo una rapida fuga, evitando così l'autostrada. A restare ferita una delle quattro guardie a causa del capovolgimento del mezzo, difficile anche l'intervento dei soccorsi a causa del blocco creato dai mezzi pesanti. Un modus operandi che riporta alla mente l'assalto avvenuto il 26 aprile scorso, sempre sulla A14, ma all'altezza di San Giovanni Teatino. In quell'occasione il colpo era stato compiuto alle prime ore del mattino e anche in quel caso erano state utilizzate e bande chiodate a terra. I mezzi pesanti avevano bloccato la corsia e la fuga era avvenuta per una strada parallela all'autostrada. Un colpo fallito per l'arrivo repentino della polizia. Il 17 maggio scorso poi una nuova analogia con un colpo avvenuto, sempre sulla A14, tra valle del Rubicone Cesena Sud. Un commando formato da 12 persone, ancora colpi d'arma da fuoco, ancora mezzi incendiati e questa volta un bottino di 600 mila euro.